buongiorno ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina punto ita apriamo con la cronaca non ce l'ha fatta il pensionato rimasto ustionato gravemente ieri a valle olona a varese in un campo di via belmonte si tratta di cesare paradisi 69 anni ex meccanico e vediamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da paolo grosso con immagini di angelo puricelli di agenzia blizza un vecchio ape car rimesso in moto per spostare rifiuti vegetali è partita quasi certamente da lì la scintilla che nel tardo pomeriggio di ieri ha provocato un incendio in un campo in via belmonte a valle olona incendio che ha perso la vita il pensionato di 69 anni cesare paradisi che abitava lì vicino e non è sopravvissuto alle ustioni l'uomo adorava quel pezzo di terra dove allevava coniglie e galline dove in passato c'era stato un orto affidato a un amico e dove accumulava legna da bruciare in inverno ieri era solo molto probabilmente ha cercato di rimettere in moto la pecare e quando la scintilla ha provocato un principio di incendio le fiamme sono state alimentate da una catasta di legna alle spalle del mezzo cesare ha cercato di spegnere il fuoco con un estintore che aveva nel capanno degli animali purtroppo però aveva problemi di mobilità a causa di una malattia e a un certo punto le fiamme hanno provocato un'esplosione e poi l'hanno avvolto e condannato a morte quando lavorava cesare paradisi faceva il meccanico a valle olona lascia la compagna natalina e tanti amici che lo ricordano con grandissimo affetto e un'altra tragedia si è consumata a legnano dopo tre giorni in ospedale è morto il ventenne di nazionalità pakistana che domenica aveva accusato un malore mentre nuotava nella piscina comunale di via gorizia il ragazzo aveva perso conoscenza mentre stava nuotando il bagnino e il direttore sportivo di amgasport si erano lanciati in acqua per soccorrerlo le manovre di rianimazione erano durate a lungo poi il giovane era stato trasportato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di legnano nonostante le cure mediche le sue condizioni erano però via via peggiorate fino al tragico epilogo e andiamo ora a gorla minore dove questa mattina è divampato un incendio alla cava olcim vediamo il servizio realizzato dalla collega veronica de riù piccolo incendio alla cava olcim questa mattina 8 giugno un nastro trasportatore durante le operazioni di manutenzione pare che sia andato in fiamme sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del sempione in questo momento sul posto oltre agli operatori dei soccorsi ci sono i funzionari del comune con l'assessore lavori pubblici giuseppe migliorino oltre ai tecnici di ats e carabinieri della compagnia di saronno al momento non risultano esserci persone ferite fortunatamente si è strattato appunto di un piccolo incendio dovuto probabilmente al riscaldamento di uno dei tappetini che vengono usati durante i trasporti per attutire i rumori all'interno della cava appunto dove vengono stati materiali per poi produrre calcio stessi e passiamo ora alla politica caos ieri sera in consiglio comunale avarese dove la maggioranza del sindaco davide galimberti si è trovata più volte in difficoltà vediamo il servizio caos e tensioni ieri sera in consiglio comunale avarese per la seconda volta in pochi mesi dall'inizio della galimberti bis l'opposizione ha messo in difficoltà il sindaco e dopo una serata di trattative e opere di convincimento tra i banchi dei consiglieri della coalizione di centro-sinistra la seduta è stata salvata dallo scoccare della mezzanotte e sospesa non si vedeva un consiglio comunale così animato da almeno sei anni avarese con il numero legale inizialmente mancante il presidente costretto più volte a richiamare i consiglieri all'ordine motivo delle tensioni i due punti all'ordine del giorno che non avrebbero visto la maggioranza compatta nella ratificare le scelte che la giunta sta compiendo la modifica al regolamento della commissione paesaggio osteggiata anche dall'ordine degli architetti e la reticenza di varese unico comune su 14 a dare il nulla osta alla posa delle pietre d'inciampo a salvare la situazione è stato dunque il tempo superata la mezzanotte e quindi per regolamento considerata chiusa la seduta il consiglio è stato sciolto senza che nessuno dei due punti venisse alla fine messo ai voti e infine lo sport basket la open job metis varese rischia di perdere pezzi eccellenti tutti i dettagli nel servizio curato dal collega massimo rovati mentre l'attenzione del basket italiano è catalizzata dall'imminente finale scudetto stasera palla due tra virtus bologna olimpia milano è già tempo di mercato probabilissimi gli spostamenti di pezzi da 90 come stefano tonut a medio della valle e nicomagnon ma in casa open job metis si vive una fase di stallo il budget non è ancora stato definito così le offerte per i rinnovi tardano e qualche pedina importante della scorsa rimonta salvezza rischia di prendere altre direzioni in particolare le attenzioni altrui si sono concentrate su giovanni de nicolao e paulio sorocas sul play padovano ci sarebbe un interesse concreto di reggio emilia nelle mani del lungo lituano invece una lucrosa proposta recapitata dal giappone il gm arceri lavora su nomi di playmaker americani difficile infatti riuscire a trattenere marco skin e valuta italiani importanti da moraschini a bortolani c'è poi la voce coach con pablo prighioni ipotesi molto stuzzicante anche se l'ex playmaker argentino ha appena rinnovato il contratto d'assistente a minnesota e questa è l'ultima notizia l'appuntamento con l'informazione di peralpina.it torna come sempre questa sera il 19 una buona giornata grazie a tutti